Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo episodio di Power Personal Trainer Prima di iniziare a parlare di questo nuovo episodio riguardo lo stretching e il riscaldamento su COD Voglio ringraziare Daniele Lunassi, H.LunaxArts, per chi non lo conoscesse è un editor che ha fatto quasi tutte le mie intro Quindi lo ringrazio molto, andate sul suo canale che troverete tra l'altro in descrizione e seguitelo per me Perché veramente mi ha dato una grandissima mano e questa intro fa paura con questa canzone, cioè va proprio a bomba Comunque, tralasciando questa piccola introduzione, partiamo subito con il video Allora, quante volte, allora io parlo, anzi parliamo prima di me Allora io tante volte quando accendo COD mi trovo a giocare le prime partite male Perché ho le mani fredde, sono appena tornato che stavo fuori e faceva freddo Non sto con la mentalità di COD, sto pensando ad altre cose, non riesco a essere concentrato Non riesco a essere preciso e così via Come faccio per avviare a questo problema? Bene, ora vi spiegherò tre motivi, cioè tre motivi, tre modi scusate Tre modi, partiamo con il primo modo Penso che pure voi abbiate forse questo problema Comunque, il primo modo è di andare in partita privata Mettere tutti contro tutti su Strike Zone Perché su Strike Zone? Perché è una delle mappe più piccole E mettere il radar attivo Questo perché almeno vi troverete e saprete dove stanno i vari avversari Quindi almeno avrete la possibilità di andargli contro E loro contro di voi, senza che vi state a cercare per la mappa Questo metodo è consigliabile per chi ha un gruppo di amici Così quando iniziate a giocare, iniziate a fare questo E poi vi buttate in pubblica Comunque è fattibile anche con i bot Ma il mio consiglio è di farlo con gli amici Perché giocate contro persone reali È sia più divertente Perché vi divertirete con vita doppia Sia perché è diverso giocare contro una persona reale Che contro un bot Comunque, questo perché? Perché quando uno gioca a vita doppia Per prima cosa, essendoci la salute maggiore Bisogna colpire molto di più il petto e la testa Perché sono punti fondamentali Sennò l'avversario non muore veramente Cioè se sparerete sulle braccia o sulle gambe Ci metterete più di un mezzo caricatore sicuramente Per ucciderlo Se vi sparano per primi Voi dovete essere più precisi A sparare all'avversario Nei punti giusti In modo da ucciderlo Prima che lui vi uccida Quindi è pure un fatto di reazione Non solo di precisione Quindi il mio consiglio è di Beh sì Il mio consiglio alla fine è di giocare Questa modalità Tutti i controlli su Strike Zone Con vita doppia Per cercare di allenarvi Giocate 10-15 minuti E poi vi buttate in pubblica Sembrerete veramente godlike Cioè i nemici non Veramente sembrano Cadranno come burro Sarete precisissimi Con un caricatore di Remington Che avete i quattro colpi E farete il quinto E il sesto Tranquillamente Perché siete abituati Avete giocato quei 10-15 minuti Che vi hanno abituato a giocare Con una salute doppia Rispetto al normale Quindi vi hanno praticamente Allenato Vabbè si può dire Un piccolo riscaldamento Stretching Per iniziare a code Comunque il secondo metodo È un metodo Per chi gioca principalmente da solo Non gioca con Non sta quasi sempre con gli amici O i vostri amici Non sono online Prendete il FAD Perché il FAD Perché è uno dei fucili d'assalto Più scarsi Secondo me È uno dei meno precisi Ha un alto radio di fuoco Quindi ha poco danno E giocate con il FAD Praticamente I perk Gli accessori Sceglieteli voi Cioè sono a vostra discrezione Come vi trovate meglio Fate 2-3 partite Con quell'arma E poi mettete Una delle armi che vi piace Come che ne so L'Mtari Il Remington L'SC 2010 E così via Sembrerete veramente Che avrete un'arma Potentissima in mano Perché siete Siete abituati Siete stati abituati Per quelle 2-3 partite A giocare con un'arma Più scarsa del normale Poi che però Vi siete tagliati una mano Avete giocato Senza una mano Per tanto tempo E poi ve la siete riattaccata E avete iniziato a giocare bene Questo È proprio il concetto Praticamente Vi dovete Autoamputare Utilizzando il FAD Per poter poi Giocare meglio Questo è il mio primo Diciamo il secondo metodo Il terzo metodo È di fare una combo Cioè Del primo e del secondo Andare In tutti contro tutti In privata Su Strikezone Con il FAD Con i vostri amici E macinarvi di kill Per 10-15 minuti È follia Perché ci metterete Un caricatore Per uccidere Un avversario Però questo vi allenerà molto Perché poi Come prendete in mano Un Remington In pubblica Che dà 2-3 colpi Massimo Farete veramente Cos'è successo Cioè sto giocando A un altro gioco Quindi questo è il mio consiglio Per come riscaldarvi Quando tornate a casa Quando accendete i codi Immediatamente o passate Da un gioco all'altro Non so stavate giocando A Battlefield E passate a COD No quindi non vi ritrovate Molto Ecco questa è una prima cosa Che si può fare All'inizio Quando ritornate su COD Spero che vi sia piaciuto Questo video Fatemi sapere Ai prossimi Power Personal Trainer Bitches Grazie a tutti i nostri Ciao a tutti i nostri Ciao a tutti i nostri